Adesso sto appunto con un compagno che ha già una sua figlia e forse era la persona giusta per fare un bambino e però comunque non ci ho mai più pensato Per me poteva essere una forma di egoismo perché spesso ho sentito dire però almeno ho lui o lei quindi come una sorta di completamento del proprio essere come se avessi dei vuoti e li dovessi colmare con un figlio che comunque è lì, è per te, è per sempre